Musica 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 I can't tell where the journey will end Tu e da mio padre Soprattutto Una cosa che gli aveva detto Il tuo padre E cioè che nella vita Ascoltano i fatti e non le parole Casualmente faceva anche L'imprenditore e il contrario Era un modo Molto italiano E molto originale Di affrontare Lo sviluppo produttivo Perché forse in maniera Incoscia proprio il nostro sviluppo industriale È stata antisignana Nell'applicare il design e la comunicazione Musica 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 Io voglio ringraziare Tutti Gli amici e donne In un istante Perché Perché ci mettete passione E questo mi dà molto molto coraggio Grazie a tutti Buon fine settimana Buona proseguizione La fabbrica che funziona E una società che non funziona La fabbrica che funziona Più resti Molto lire Grazie a tutti